Ciao ragazzi, Pio Pio Gaming qui. Oggi volevo farvi vedere un nuovo gioco che ho scoperto nel mio computer. Non so cosa sia, ma ha un nome bellissimo. Si chiama Calcolatrice. Come puoi vedere, ci sono vari numeri. I numeri sono dei personaggi che devi scegliere. Lo 0 è il peggiore. Io consiglierei il 5. Oppure il 69. Il 69 è una combo di due personaggi. Ed è la combo migliore. Poi, vedete questa righetta? Questa è la spada. Come potete vedere qui sopra, adesso c'è scritto 69 meno. Vuol dire che il nostro combo di personaggi sta puntando la spada contro un altro personaggio. Il primo personaggio che andiamo a colpire è 1. 1 è il personaggio peggiore del gioco, togliendo 0. È il nemico che è praticamente del tutorial. Come potete vedere, queste due righette non sono due spade, ma sono il combattimento. Se io lo clicco, vedo se ho vinto io o se ha vinto il nemico. Stavolta ho vinto io. Vedete? Ho perso solo 1 HP. Ok. Adesso, riandiamo. Questo diviso. Questo. Queste due palline e una riga in mezzo. È un fucile. Questo fucile, se vado contro due, è forte. Però mi leva un fottio di vita. Perché il rinculo del fucile mi fa cadere giù da un palazzo. Adesso, riprendiamo la spada e andiamo contro il boss finale del gioco. Che è 104. Allora, speriamo di vincere. Aspetta, c'è qualcuno che ci sta arrivando ad aiutare. Il personaggio 666. No, il personaggio più raro del gioco. Ho vinto io. No. No.